Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Kate Middleton, amata da tutti per la sua eleganza e determinazione, sta affrontando una delle sfide più difficili della sua vita, la battaglia contro il cancro. Da quando ha iniziato la chemioterapia preventiva, la principessa del galle si è allontanata dalla vita pubblica ed è alle prese con effetti collaterali piuttosto devastanti. Soffre quotidianamente di nausea, stranchezza, perdita di capelli e di peso. Purtroppo sta diventando sempre più difficile, ha spifferato una fonte al National Enquirer, come riporta Weirah Online. Il National ha riferito che negli ultimi mesi Kate Middleton ha subito una significativa perdita di peso, è dimagrita di ben 15 chili. Prima della malattia Kate era già nota per la sua figura snella, ma questa drastica riduzione di peso l'ha resa praticamente irriconoscibile. Un cambiamento fisico importante che preoccupa il principe William e tutta la famiglia reale. I Windsor non hanno mai specificato che tipo di cancro a Kate anche se secondo le indiscrezioni potrebbe trattarsi di un tumore femminile contratto in seguito ad un'infezione. Kensington Cowles ha fatto sapere che Kate è ancora in cura e non tornerà ai suoi doveri ufficiali finché il suo team medico non lo riterrà opportuno.